La nostra bravissima collega del Tg2 che espone il crocifisso, per me è inopportuno, per te invece è opportuno? Intanto è bene ricordare che lo fa da anni, prima esponeva il rosario per non confonderle con le ondate di moda che i rai sono abituali, noi abbiamo visto tanti colleghi diventare da rossi a verdi a gialli a bruni a seconda dell'aria che tirava. Marina è una collega coerente, una collega alla cui risposta mi è sempre piaciuta molto quando impazzì la prima volta la polemica su tutti i siti, Marina disse sì posso immaginare che a qualcuno non vada bene ma a me non interessa niente. Questa risposta può sembrare spressante ma è in realtà una risposta molto netta perché è chiaro che si sa esponendosi in quella maniera in particolare in un ambiente conformista come la rai, quindi con una scelta totalmente non conformista si pagherebbe, si paga prezzo e quando l'ha fatto lei non era per niente comodo farlo, ha pagato prezzo appunto con questo tipo di polemiche. Io penso che lei l'ha detto anche in altre occasioni, io la conosco Marina, faccio questa premessa agli ascoltatori quindi sono diciamo sì... No bene bene, ci aiuta che tu la conosca personalmente, ci aiuta perché puoi parlare di lei conoscendo. No, è anche di lei che ho dunque un pregiudizio positivo, insomma è una collega da tutti molto stimata sempre che ha pagato il prezzo quando non era facile pagarlo per niente. Cioè lei ha subito per esempio un arresto nella sua carriera, proprio perché negli anni scorsi mostrava il crocifisso, era considerata male, era un po' messa da parte? Beh, è noto che insomma erano alcuni ambiti del mondo diciamo così, cattolico non è stato semplice fare strada in rai, tant'è che arriva alla conduzione ora di TG2 in un clima diverso perché per molti anni nonostante la grande professionalità io andavo ospiti di alcune sue trasmissioni che venivano fatte su reti improponibili che nessuno sostanzialmente guardava, sempre rai eh, però veniva sempre confinata in un ambito estremamente poco visibile. Ok, ma trasmissioni in cui si parla di religione, scusa perché non ho seguito la sua carriera. No, no, in cui si parlava anche di politica, però sempre su... E marginata insomma. Diciamo molto improbabili, è stata sempre molto emarginata. Poi l'ho vista crescere, l'ho vista andare in conduzione per la prima volta appunto al TG1 con il rosario, non con il crocifisso e per me è stato insomma un vedere qualcosa di molto molto particolare, di incoraggiante. Sai perché? Perché centinaia di milioni di cristiani per quel simbolo pagano persecuzioni vere. Ovviamente un giornalista rai non è neanche lontanamente paragonabile a quello che avviene, ma centinaia di milioni di cristiani per essere, diciamo così, per indossare il crocifisso, anche proprio per fare questo, pagano un livello di persecuzione infinito. Penso all'ultima strage di Pasqua che è avvenuta in Sri Lanka, quella che è stata definita la strage degli Easter Worshippers, degli adoratori della Pasqua, perché questa fu l'espressione utilizzata da Barack Obama e da Hillary Clinton per definirla, e anche su molti media italiani, per sentire la parola cristiani nei titoli, e quello era un violentissimo attacco ai cristiani, Ci mancherebbe, certo. Ci mancherebbe, celebrazioni pasquali, fu molto difficile per arrivare a quell'aggettivo. Tu dici quindi lei ha tutto il diritto di farlo e anche, anzi, simboleggia, come dire, un momento di rivalsa del crocifisso, che in altre parti del mondo ti ammazzano se lo esponi. Non mi piace l'espressione di Sant'Anchè che dice orgoglio, non mi piace l'espressione di chi dice rivalza, non sono stato mai d'accordo, ed è forse noto, io sono stato candidato anche all'Europa, sono il presidente del Popola Famiglia, con Salvini che espone il rosario durante il comitio elettorale. Non ti piace. Ho sempre detto con molta chiarezza, però che una giornalista, in tempi non sospetti, faccia una scelta, come dire, che può solo portare elementi negativi sulla sua carriera, e lo faccia senza strombazzare, senza mai dare un'intervista, non esiste un'intervista di Marina Nalesso su questo tema, poteva giocarci sopra, ma non ha fatto una caccia dalla visibilità. Guarda, capitò anche a me una volta, in dare ospite, proprio dal tuo direttore, quando conduceva a Ballarò, a una trasmissione, a Giannini, sì. C'erano invitati degli imam, e io l'ho invitato appunto come direttore della croce e presidente del Popola Famiglia. Anch'io portavo il rosario quel giorno, non lo ostentai, però una croce usciva dalla manica della mia giacca, e il regista lo inquadrò, non ci fu nulla di, credo, male, io non lo ostentavo, era un elemento che, insomma, in quel momento aveva un suo senso, perché in quella trasmissione sentivo che avesse un suo senso. Nessuno che ostenti il crocifisso, secondo me, va attaccato. Se invece lo si fa, diciamo così, appunto, col tono della provocazione politica, io ritengo che questo sia un errore. Però nel caso di Marina, chiunque lo conosca, chiunque la conosca, credo abbia capito che dentro il suo cuore c'è una sede fortissima, e non capisco perché, fammelo dire questo, perché io oggi, il 20 giugno, è l'anniversario del Family Day, del primo Family Day. Facciamo il 20 giugno 2015, poi facciamo il 30 gennaio 2016, il secondo Family Day, al Circo Massimo, che impendono in maniera incredibile, la RAI fece una copertura piuttosto parziale, diciamo così, delle cose che andammo a dire. Partì il festival di Sanremo subito dopo, e per cinque giorni i cantanti furono praticamente obbligati a portare il nastino arcubaleno, diciamo, perché c'era il dibattito sulla legge di Cirinna, e tutti, per cinque giorni consecutivi, tutte le band, tutti i cantanti, dovevano portare... Eh, vabbè, scusa, come tu porti la croce, questi portavano il coso, no? Allora, però, Michele Serra non ci rompe le scatole da fare una volta una giornalista con progetto, no? No una volta, tutti i giorni, e no una volta, tutti i giorni, scusa, però, Mario, aspetta, però. No, se mi fai tutto in spazio a Di Sanremo, fatto così, in pieno dibattito sulla legge di Cirinna, perché noi avevamo fatto i femmini dei, allora bisogna fare la risposta mediatica della RAI, e obbligatoriamente ogni cantante deve portarlo, perché il dirigente RAI, dietro le quinte, te lo distribuisce. Il conformismo, il conformismo del, dici te, dell'arcobaleno. Però, aspetta, torniamo un attimo a Marina Nalesso, che tu conosci. Io però, scusa, Mario, io potrei rovesciare il tuo ragionamento. Aspetta. Perché Michele Serra, perché Michele Serra quei giorni non scriveva, e poi era un autore di cospezzia di Sanremo. Sì, aspetta, però, scusa, scusa, Mario, scusa. Allora, la radio di Repubblica, voglio essere chiaro. Ma un conto, no, ma scusa, no, ma tu fai benissimo, siamo qua a discutere, a dibattere. Allora, primo punto, allora, Marina Nalesso, io potrei rovesciare però la tua argomentazione, perché tu dici, lei per portare il crocifisso, il rosario, in tempi non sospetti, fu in qualche modo emarginata, a parte che mo' tutta questa RAI, TG1, proprio anti-cattolica, vabbè, lo dici, la dipingite, va bene, ma comunque va bene, tu conosci la situazione, io forse di meno. Però, aspetta, io potrei rovesciare questo ragionamento e dirti, ah, guarda un po' ora che ci sono altri al governo che hanno messo le mani sulla RAI, come hanno fatto tutti i governi, guarda un po' che carriera, guarda un po' che ora conduce il TG2 delle tetici, quindi forse proprio quel portare quella cosa lì l'ha aiutata in questo momento. Cioè, tu dici, l'aveva fatto male alla carriera prima, ma ora sicuramente la sta aiutando, eh, perché io rovescio il tuo ragionamento, scusa, sta facendo, ah, visibilità perché porta il crocifisso, questo è. Passare dal TG1 al TG2 delle tetici non mi sembra un avanzamento di carriera clamorosa. Beh, una conduzione continua del TG2 dell'ora di pranzo, beh, insomma, comunque, no? Seconda questione, mi auguro che faccia la più carriera possibile. Terza questione, lei non ha mai cercato visibilità. Io di questo devo darle atto, e guarda che è strano in questo mondo in cui tutti noi, compresi noi che stiamo parlando in questo momento, in qualche modo facciamo parte di un circo che cerca visibilità. Io non ho mai visto Marina andare ospite in una trasmissione di qualsiasi genere a rivendicare il suo gesto. Io, davanti a una ragazza così, tanto di cappello, ormai una signora, io l'ho conosciuta da ragazza, tanto di cappello e non credo ci sia nulla di sbagliato in questo. Quanto al tema di riconformismo... Ma perché non c'è... scusa, Mario, perché dici che non c'è nulla di sbagliato? Io penso questo, però tu dimmi che non la pensi contrario da me. Io penso questo, la TV è di Stato, lo Stato è aconfessionale. Nel momento in cui tu conduci un'edizione del TG di Stato, rappresenti lo Stato, perché questo è come se fosse un funzionario pubblico, ragazzi, lì, eh? Non è che sta conducendo Tele la Croce o Tele Capital, questo è. Cioè, quindi, voglio dire, tu sei aconfessionale, se tu... Io avrei lo stesso moto di fastidio, che poi la tarola è un vero fastidio mio, polemica, se ci fosse un conduttore con la Kippa, un conduttore con la Stella di Davido, un conduttore col velo, io avrei la stessa cosa, la stessa reazione. Bene, col Nassino Alcobaleno non ti è successo niente, quello andava bene. Nassino Alcobaleno non è un simbolo religioso, Mario, e dai, la religione è una cosa importante. Il tema è un'altra questione, allora il tema lo metto su quest'altro piano. Quando entri in un ospedale e trovi il crocifisso nella stanza, quando entri nel tribunale e trovi il crocifisso in un'aula di tribunale, quando i tuoi figli, non lo so, io ho tre figlie, vanno a scuola o all'università e trovano il crocifisso nelle aule, cosa pensi? Che dovrebbe essere staccato? Certo, male, penso male. Questa differenza evidentemente c'è fra me. Vabbè, certo, è giusto. Siamo qua a dibattere apposta. Trovi crocifisso il segnale è anche, come dire, l'anima vera di un popolo, non è un caso che stiano lì, stanno lì perché rappresentano un popolo tutto intero, che ancora oggi, nonostante la scristianizzazione per il 91% è composto da battezzati, e il 77% è composto da gresimati, nonostante tutti gli attacchi alla famiglia, 29 milioni di persone sono ancora regolarmente sposate. Io trovo che, insomma, alla fine dentro quel simbolo, che è un simbolo di amore come altri non ce ne possono essere, cioè di chi dà la vita per tutti, ci sia quello che noi siamo o almeno potremmo essere come popolo. Per questo sta in quell'aula di tribunale, per questo sta in quei luoghi di sofferenza che sono gli ospedali, per questo sta in quei luoghi di cultura che sono le scuole e le università, perché rappresenta la punta più alta di ciò che noi siamo o potremmo essere. Se nessuno nel servizio pubblico radio televisivo riesce ad essere all'altezza di questa dimensione popolare, è un problema del servizio pubblico radio televisivo, non certo di Marina Anarisi. Vabbè, tu hai una visione per cui, diciamo, il vertice del nostro stare al mondo, appunto, rappresentato dal Cristo sulla croce. Il nostro essere italiano. Ma voglio dire, mettiti nei panni... Il nostro essere italiano. Mario, io sono un ateo, a me questa cosa non mi fa ne caldo l'effetto, te lo voglio dire, sinceramente. E ho un profondo rispetto per tutte le religioni e anche per la figura di Gesù Cristo, che ha dei tratti che a me piacciono tantissimo, ok? Però lo dico d'ateo e non conosco bene le cose. Però il punto è questo. Ma mettiti nei panni, scusa, di un cittadino italiano che è cittadino come te e me, Cristo Santo. Scusa, non dovevo dire questa interiezione, ovviamente. Mi perdonate. Volevo dire questo. Che magari è di un'altra confessione. Perché deve vedersi questi simboli nei luoghi dello Stato, compreso il Tg2? Il contribuente ebreo, il contribuente buddista, il contribuente musulmano, conto lo meno di quello cattolico come te? Perché deve sapere, con grande tranquillità e senza discriminazione per alcuno, che il sentire profondo di questo popolo è intriso di una cultura che ha a che fare con quel segno. Che ha a che fare con un uomo che è arrivato, ha spaccato la storia in due. Perché allora dobbiamo dire che siamo nel 2019 dopo Cristo, che è un insulto agli ebrei o ai musulmani. Eppure siamo nel 2019 dopo Cristo, perché un uomo ha spaccato la storia e in questo nostro paese è ancora ragione di identificazione per l'unità stessa di un popolo. E questo non può essere interrotto o rotto, questo tipo di elemento sintonico, da nessun elemento esterno che possa venire a farlo indicare come qualcosa che disturba. Poi sì, disturba, infatti siamo qua a parlarne, no? No, infatti, infatti. Infatti Marina è l'unica giornalista RAI che ha questo coraggio. Ma secondo me è un conformismo, secondo te è il coraggio? Questo è il simbolo. È conformismo. Conformismo è poco, eh? È l'unica su migliaia, voglio dire, è l'unica su migliaia. Ma con questi guerri di luna politici che ci sono, va alla grande, va alla grande, la faranno direttrice del Tg2, magari se lo merita pure professionalmente. Vediamo, sarebbe un ottimo direttore. Ma magari è bravissimo. No, ma non metto in dubbio le sue qualità professionali, è solamente il simbolo. Maria Di Nolfi, della Croce, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.